Vivi le opportunità del programma di sviluppo rurale Marche. Abbiamo raccontato delle attività sperimentali che come AMAP stiamo svolgendo in particolar modo sul tartufo bianco, attività che sono destinate a essere intraprese dai conduttori per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e demografici che sono in atto e che incidono in maniera negativa sulla produzione del tartufo. Come agenzia stiamo lavorando per fare sì che i dati e le prove ottenute possono essere poi replicati dai tartuficoltori in campo e nei loro appezzamenti.